Oggi è il giorno di maggior traffico sulle autostrade in generale, quindi anche nel tratto abruzzese da Val Vibrata a Vasto Sud, registriamo gli volumi di traffico più intensi dell'anno. Il bolino nero tradotto in numeri, sono 3.000 le autovetture che transitano in un'ora nel periodo di grande esodo. Per intensificare il controllo del traffico autostrade per l'Italia ha intanto chiuso i cantieri, questo sin dal primo giugno scorso fino alla metà di settembre. Quelli maggiormente impattanti sono stati rimossi in accordo con gli enti del territorio. Abbiamo intensificato tutti i presidi che ci sono sulle autostrade, quindi a partire dal rinforzo della viabilità e quindi di servizi di assistenza all'utenza, sia in autostrada che anche nelle aree di servizio, potenziamenti di tutti quelli che sono i presidi per garantire un viaggio confortevole per gli utenti che decidono di attraversare l'Italia da nord a sud sulla dorsale atriatica. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi cosiddetti pesanti, cioè superiori alle 7.5 tonnellate, nella giornata di oggi dalle ore 8 alle ore 22 e nei festivi dalle ore 7 alle ore 22. Quali sono i consigli per viaggiare sicuri di autostrade per l'Italia? Sicuramente la prima cosa è evitare le distrazioni al volante, rispettare sempre i limiti di velocità nel momento in cui si avverte un minimo di stanchezza fermarsi presso le nostre aree di servizio che sono mediamente distanti, 30 km, quindi a velocità normale di crociera ogni quarto d'ora più o meno si può trovare un'area di sosta e far verificare la propria auto qualche giorno prima del viaggio programmato per controllare in particolare gli pneumatici e i freni che sono gli elementi che vengono stressati maggiormente in questi lunghi viaggi. Ed è ancora più bello godersi la vacanza in previsione del fatto che il rientro sarà sicuramente più agevole. Di traffico molto intenso sì, non raggiungeremo il picco del bollino nero ma dopo Ferragosto avremo quindi il traffico del cosiddetto controesodo quindi che gli utenti da sud ritornano verso le grandi città, quindi verso nord tipicamente Milano-Bologna e che quindi creano queste giornate in cui il traffico si addensa in modo consistente.